Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, sono Carlotta Calemme e mi sono laureata in giurisprudenza lo scorso luglio. La mia è una storia particolare. Infatti, sono arrivata all'insubria costretta dai miei genitori che non volevano facessi un'esperienza fuori sede, temendo che non avrei studiato, e poi alla fine si è rivelata la scelta migliore che potessi fare. Difatti, alla fine del primo anno, dopo aver terminato con profitto tutti gli esami previsti, mi è stata data la possibilità di andare o a Verona o a Pisa, dove avevo vinto una borsa di studio. Nonostante ciò, ho scelto di rimanere all'insubria e questa è stata la scelta migliore che potessi fare. Difatti, qui ho ritrovato me stessa, ho ritrovato la sicurezza che avevo perso durante gli anni dell'adolescenza e dei professori che hanno puntato su di me. Oggi, grazie all'Università dell'Insubria, sono tirocinante presso la sezione penale del Tribunale di Varese, cultura e della materia in diritto penale e praticante avvocato. Sono molto orgogliosa di aver fatto l'Insubria, quindi spero che possiate prendere anche voi questa scelta. In bocca al lupo! In bocca al lupo! In bocca al lupo! Grazie a tutti.